Ho comunicato che non posso dirvi dove sono, ok? Quindi non chiedetemi dove sono ragazzi, perché non posso dirvelo. Oh, ma c***o devo cantare? Se viene bene, ho cantato e ballato. Justy Bieber, spostati. Tutto regolare, stiamo tornando con delle giraffe, questa al rossetto perché Leo me l'ha buttata in faccia, questa è giraffa mamma, giraffa Leo, e puoi far vedere Topino Amico Mio? Come si chiama? Come si chiama? Topino Amico Mio. E quella è la sua casetta? Sì. Favvene a vedere. Ah, è una casetta a letto, wow. Poi si chiude e poi si riapre. Bello. Tutto è iniziato con un cane e un papio. Ma pensa un po'. La serie Non sai cosa regalare a Natale, ma c'è la Capsule Collection che ha disegnato Federico per Yamamai. Io vi metto il linkino e andatevela a vedere tutta perché è una bumbetta. Aspetta. 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 Grazie a tutti